che carino che tenerezza polenta col formaggio yogurt di burro cele patata dentro comunque questa cosa qua è buona colore fighissimo sembra la medicina della scarlattina è presente no 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 non mi aspettavo questa consistenza un'aggiunta di bocca questa potrebbe andare giulina si è finito mi piace molto è pasta veramente ma Putin mangia questo per facciare a me questa fa già venire la nase solo guardare al dente giusto non si può mettere la pasta nel latte penso e spero che sia un cibo per bambini non ce la faccio anche se Putin la mangia no grazie qui c'è l'aglio ufficiale si sente già che c'è l'aglio leggerezza eh ce la mettete un po di marmellata ciò ma che ora vi spiegate voi russi di solito no questa ve la passo si questa buona come pranzo buono colazione mica tanto come si chiamano queste una cacchieta eh semplice mi da due cattelette per favore mi piace una cacchieta una cacchieta bravi bravi grazie fantastiche per ora vinco le polpette e poi ti potrebbe essere tipo il semolino tipo polenta no? dici? beh sembra la pasta delle crepes non l'avevo mai mangiato dolce buono ok non è che proprio mi fa pazienza si anche me non sa di niente però mi piace no? si vede che sono russo dentro si si dentro io ho finito eh wow salame wow questo è buono questo è buono questo è buono a me il salame piace da morire secondo me perché sembra un mix tra salame e mortadella oh non avevo mai mangiato cetriolo e salame anche io il mortalame il mortalame va provarlo col tè ci piace ok questo è promosso ma quindi fatemi capire i russi mangiano tutta questa roba colazione cacciavito caderecca 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 tutto kuzna tutto kuzna kuzna viva la russia viva russia ciao c'è Grazie per la visione!